benvenuti alla rassegna stampa di fano tv in diretta sono le 7 30 buongiorno e ben ritrovati a tutti voi carissimi telespettatori di fano tv il canale 17 come sempre c'è l'informazione al primo mattino con i giornali e poi le otto e mezzo di sera invece il telegiornale iniziamo dal santo di oggi sono i santi giuda e taddeo simone no simone giuda il sole sorto alle 7.39 tramonterà le 18.05 andiamo a vedere subito il tempo sul sito della protezione civile delle marche che per oggi prevede oggi venerdì 28 ottobre prevede cielo sereno poco nuvoloso con maggiore densamenti nelle zone dell'entroterra le temperature sono in netta diminuzione nei valori minimi mentre sono stazionari lieve diminuzione quelle massime i venti i venti sono di brezza tesa hanno soffiato in queste ultime ore i venti nord orientali moderati o tesi lungo la costa con raffiche fino a vento forte ce ne siamo accorti invece domani sabato 29 di ottobre il cielo sarà sereno su tutta la regione marche le temperature stazionari o lieve diminuzione dei minimi aumenteranno un po le ma le massime anche domeniche guardate giornata di sole proprio da fare le passeggiate lungo i viali alberati quelli con questi colori autunnali che sono una meraviglia che aprono il cuore tempo stabile per la prima parte della settimana entrante allora ci vuole un po di serenità un po di calma un po di pace anche e soprattutto nelle zone colpite di nuovo dal terremoto c'è la paura che è passata dopo la grande paura adesso si cerca di rimettere un po le cose in ordine abbiamo già detto per fortuna non ci sono stati feriti non ci sono state vittime questo anche grazie al fatto che la prima scossa è arrivata alle 19 10 quindi ha dato una sorta di avviso prima di poi prima di dare quella più forte delle 21 19 allora dicevo il prima pagina del resto del carlino tutti a scuola dopo la grande paura via libera dalle verifiche per tutti o quasi gli istituti lievi danni al palazzo ducale di urbino c'è chi ha dormito in automobile o nel palazzetto dello sport mentre il giornale ha raccolto la testimonianza di giulia che ha raccontato il terrore vissuto all'università di camerino camerino una delle città che ha subito di più i danni del terremoto ricci invece la politica ricci piglia tutto sfida bersani e fa un rimpasto di giunta rafforza pd confermate le anticipazioni dunque giunta più politica e con un occhio anti secessione sotto poi vedremo anche a monbaroccio la tanta gente che piange filippo il musicista il ragazzo di 19 anni morto in un incidente stradale autonomo per un colpo di sono gli amici in mano nella mano alle esequie dice sarai per noi un faro la pagina di fano del resto del carlino no a fosso sei ore sia chiaruccia peso l'urbino gli altri cancellati mentre il pd rimane fermo su fosso sei ore mentre le liste civiche del sindaco rimettono tutto in discussione accusando il partito democratico di aver manifestato nella riunione di maggioranza di mercoledì sera atteggiamenti minacciosi c'è ci sono i consiglieri di noi giovani mattia de benedictis il segretario della lista civica edoardo carboni che appunto appoggiano il sindaco massimo seri su 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 appunto chiaruccia allora questa è la pagina di fano del resto del carlino velocemente le altre aset la fusione verso il traguardo tra mal di pancia però la società incorpora la holding si sono svolti i cdi i consigli di amministrazione cespuglio protesta i documenti sono arrivati tardi controllare era ormai impossibile ancora dal giornale del carlino 20 anni di duro lavoro in fumo distrutti mille metri quadrati della ditta che produce vestiti stiamo parlando dell'incendio l'incendio dell'altra sera a bellocchi di fano adesso si contano i danni distrutti mille metri quadrati il titolare diego angeloni disperato per colpa del corto circuito devo ricominciare tutto da capo allora forza e coraggio andiamo sulla pagina di fano e vale del cesano perché il carlino da spazio questa mattina ha un cercatore di funghi che è stato prigioniero nel fango del fiume metauro i soccorsi hanno faticato non poco ad individuare la sua posizione comunque ero tranquillo nel bosco racconta lui poi all'improvviso visto il buio il cercatore è stato salvato di funghi è stato salvato dai vigili del fuoco e racconta la sua odissea nella notte il protagonista è un 76enne di calcinelli antonio pascucci cercatore di funghi disperso mercoledì sera lungo le rive melmose del fiume metauro l'ultima pagina è quella di fossombrose del resto del carlino fanno anche qui la sanità fanno le prove di forza per darci l'ospedale unico protesta di saverio bossi del comitato pronosocomi dubbi sulla riduzione dell'orario del ppi poi il corriere adriatico allora il corriere adriatico adesso togliamo questa pagina qui ecco la prima pagina dell'edizione pesarese che è uguale per tutta la regione case spezzate ancora il terremoto con questa immagine di letti lettini da campeggio posizionate all'interno di un capannone proprio perché come ha detto anche il premier renzi ma anche il capo della protezione civile insomma non ci saranno tendopoli questa volta tutti quelli che non hanno più la casa andranno in hotel lungo la costa case spezzate nuove scosse edifici inagibili migliaia costretti a lasciare le proprie abitazioni ma gli sfolati si rifiutano da qui noi non ci muoviamo dicono le opzioni hotel e anche le opzioni campeggio andiamo sulla pagina di fano subito del corriere adriatico ecco la muraglia è il sito peggiore ancora sanità in primo piano tener banco il sindaco cita marche nord seri in consiglio replica ricci omiccioli dei 5 stelle lei è responsabile della chiusura del santa croce secondo i pentastellati chiaruccia un suicidio politico appello per il modello policentrico policentrico l'abbiamo già detto tante volte significa potenziare i rispettivi ospedali quindi santa croce chiaruccia e tutti quelli che stanno nell'entroterra ma a quanto pare non piace a tanti tra primo cittadino e pd nervi molto tesi non ci sarà crisi politica però solamente per non favorire il movimento 5 stelle ecco perché tutti questi mal di pancia anche se vogliamo chiaruccia guarda al futuro boris rapa rilancia il sito fanese chiaramente sono dello stesso partito serie socialista rapa socialista quindi insomma si danno giustamente fanno un gioco politico di squadra quindi boris rapa rilancia il sito fanese come scelta lungimirante e tecnicamente migliore la soluzione mandato ai sindaci dei consigli dai consigli comunali o commissione di esperti per il consigliere regionale con questa opzione si dovrebbe tornare in area vasta fanno riacquisti il ruolo di comune capofila marta costantini del gruppo fanese di possibile dice ai sindaci delle valli del metaro del cesano dovete pensare ai cittadini quindi fate questa scelta e quindi lanciano ancora una volta cercano perlomeno di convincere questi sindaci dell'entroterra a sponsorizzare il sito di chiaruccia rogo distrugge un'azienda il deposito della pribel pieno di capi di abbigliamento completamente in fumo le fiamme nate da un cortocircuito dopo la seconda forte scossa di terremoto anche qui ancora non si capisce bene è un cortocircuito poi il perché sia scaturito questo cortocircuito non è attribuibile in questo momento poi chiaramente bisogna aspettare tutta la relazione dei vigili del fuoco però non è attribuibile a quanto pare a quanto ci risulta al terremoto quindi non c'è un collegamento diretto non c'è un collegamento diretto con la scossa forte di terremoto andiamo sulla pagina di pesero e provincia da monbaroccio l'addio a filippo giovanelli ieri in una chiesa gremita la lettera di chiara la ragazza che viaggiava insieme ad un amico o il compagno questo poco importa in macchina con filippo chiara si è salvata ha fatto di tutto insieme al compagno per tirar fuori filippo dalla macchina che stava per prendere fuoco e che poi si è incendiata completamente la tua energia scrive in questa lettera è intorno a noi in tanti a monbaroccio i funerali del giovane che è morto nello schianto di santa maria dell'arzilla l'amica sopravvissuta si è presentata in chiesa in carrozzina ma ha voluto ha voluto esserci ha voluto essere lì da fossombrone chiara billi attacca la giunta tutto fermo l'opposizione accusa lavori bloccati andiamo sulla pagina di urbino mister tucker sequestri per 8 milioni confiscate anche due lamborghini mirko eusebi e ivana ferrara non potranno rientrare in possesso dei loro beni e ancora sempre da urbino matricole benvenute al college istituzioni cittadine e accademiche hanno accolto i nuovi iscritti all'università di urbino sottolineate le regole di convivenza ma anche le opportunità che sono offerte ecco qua l'immagine con queste nuove matricole poi la pagina della valle del cesano con le strade e l'edilizia popolare siamo a san lorenzo in campo grandi lavori a san lorenzo investiti 250 mila euro per la viabilità partita la costruzione degli alloggi erap ancora sulla pagina di della valle del cesano da san giorgio di pesero san giorgesi da italia e francia amicizia e volano per il turismo l'associazione delle città dedicate al santo stringe rapporti sempre più strette al santo patrono e allora in un clima di cordialità sono partiti i progetti degli scambi culturali e del calendario andiamo sulla pagina di senigallia l'orologio del terremoto si ferma la vedete si ferma sono 9 e 19 si ferma all'ora della scossa esattamente come accadde il 24 di agosto positivi i sopralluoghi nella valle del misa stiamo parlando dell'orologio del di castellione di suasa che si è fermato alle 21 e 18 orario appunto della scossa tellurica mi pare che abbiamo detto quasi tutto no andiamo sulle ultime pagine ce ne sono ancora tre velocemente sempre sul terremoto in primo piano malori e paure nella notte nella lunga notte insonne stiamo parlando di pesero è ci sono stati infarti panico sciocche il 118 in superattività attuato dal san salvatore il piano di maxi afflusso in mattinata un guasto la rete telefonica ha mandato in tilt invece le prenotazioni creando naturalmente disagi e proteste tra gli utenti messa in sicurezza la scalinata dei duchi siamo ad urbino a urbino sono state riscontrate delle criticità anche al collegio raffaello e poi tutto l'elenco di quello che è stato fatto durante le verifiche di ieri mentre le scuole erano chiuse scuole sotto controllo si torna in classe a preoccupare solo le strade e le chiese a pesero transennata san giovanni in via passeri segnalazione vigili del fuoco per crepe che ci sono nelle case e anche sul manto stradale della flaminia la vecchia flaminia davanti alla quadreria cesarini a fossumbrone e le ispezioni continueranno poi abbiamo visto che a fossumbrone c'è anche la sala dei professori dell'istituto donati che è stata chiusa per precauzione perché c'erano si era si era staccato dell'intonaco mentre a urciano resta chiusa la palestra è davvero tutto grazie per aver seguito occhio ai giornali ci rivediamo questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti